Prosegue a ritmi serrati l'attività di controllo e prevenzione dei giardini Speyer di Ravenna, intensificata dopo l'ennesima aggressione che nei giorni scorsi ha condotto al fermo del nigeriano John Stali, accusato del tentato omicidio di un tunesino colpito con un coltello alla coscia. Il tempestivo intervento di un medico tedesco che stava passeggiando nella zona della stazione ha permesso di evitare la tragedia. Gli agenti di polizia hanno svolto un controllo notturno nella zona della stazione ferroviaria dei giardini Speyer, oramai divenuti simbolo del degrado e della criminalità. Il gruppo era composto da cinque pattuglie che hanno controllato 34 persone, oltre la metà extracomunitari di origine centroafricana e magrebina, tutti in possesso del regolare permesso di soggiorno. Alcuni degli identificati sono personaggi già noti alle forze dell'ordine per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti ed è stato sequestrato amministrativamente un piccolo quantitativo di droga ad un senegalese che è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Altri stranieri sono stati segnalati all'ufficio immigrazione della questura per verificare le motivazioni che hanno consentito il rilascio del permesso di soggiorno. Non si è trattato però di un passaggio temporaneo dei lampeggianti blu nell'aria degradata, ma di un programma di intervento della polizia che sarà ripetuto per mantenere la sicurezza nella zona che deve tornare di proprietà della città di Ravenna e della cittadinanza e non della criminalità.